... Mauro Passerotti approva il bilancio 2020. Assestamento generale, la verifica degli equilibri. Figliolini, presidente di Confesercenti Abruzzo, ha annunciato una serie di obiettivi. Tornano le giornate europee del patrimonio, oggi e domani aperti luoghi della cultura. Giovedì la presentazione del Fioba Day, la giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale, il commissario straordinario del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, ha approvato l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 e la verifica degli equilibri di bilancio. L'assestamento generale di bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali, tra quelli espressamente previsti dal testo unico, il cui termine di approvazione ordinario è fissato alla data del 31 luglio. L'assestamento rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente, perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e in caso di necessità di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione. Quest'anno i termini per l'approvazione sono stati prorrogati, da ultimo si profila l'ipotesi di un ulteriore rinvio al 30 novembre, per le problematiche legate all'emergenza Covid-19. Ciò nonostante, la gestione commissariale è riuscita ad assicurare l'adempimento con minimo ritardo rispetto ai termini ordinari, avendo già approvato il bilancio prima del lockdown, condizione quest'ultima che ha consentito una gestione regolare delle funzioni e dei servizi. Tanto sono 51 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore, tra i quali ci sono anche 6 bambini di età inferiore ai 13 anni, anche se si registra un deciso incremento di casi da pescare il primario di malattie infettive, Giustino Parruti rassicura la situazione sotto controllo. Il numero dei positivi cresce in relazione al maggior numero di tamponi effettuati, anche tra i più giovani. E proprio per questo, mentre resta alta l'attenzione per la riapertura delle scuole, il presidente della regione, Marco Marsilio, firma una nuova ordinanza che prevede tamponi immediati ai sintomatici tra studenti e personale scolastico. Ed anche il primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è intervenuto sull'argomento. Le nostre misure rigide finora ci hanno protetto, ma l'equilibrio è fragile. Con fido nel fatto che possa non verificarsi una nuova ondata, ma dobbiamo essere in grado di contenere i nuovi focolai. La mia personale impressione, sottolinea Galli, è che il lockdown, per come lo abbiamo vissuto e sofferto, più rigoroso che altrove, abbia limitato la circolazione del virus in alcune parti d'Italia. Parecchie regioni non hanno avuto nuovi casi, per un determinato lasso di tempo. Adesso, dopo un'estate condotta in maniera non prudente, c'è stata una ripresa dei contagi. Il rialzo dell'età media dei casi suggerisce che l'infezione si sia diffusa nel contesto familiare. I numeri finora sono sostenibili, tuttavia la medicina territoriale ha bisogno di essere irrobustita. Il virus intanto non è cambiato significativamente, il punto è l'ospite, nel senso che se è un anziano e con patologie può andare incontro a gravi conseguenze. Passiamo ora alla politica. Forza Italia, in una nota a firma del coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano, esce ufficialmente con la proposta di ricompattare la coalizione di centrodestra in vista dei ballottaggi di Chieti-Avezzano, che correranno rispettivamente Fabrizio Di Stefano e Tiziano Genovesi. Approfittare dell'opportunità dell'apparentamento al ballottaggio per superare le divisioni e ricompattare immediatamente l'intera coalizione di centrodestra sui candidati a sindaco di Chieti-Avezzano, ha dichiarato Pagano. Mi auguro inoltre, sottolinea, che sia Di Stefano Chieti che genovesi ad Avezzano contribuiscono a cogliere questa opportunità per garantire la vittoria al centrodestra unito. Forza Italia che ad Avezzano ha calato la docente universitaria presidente dell'ACIAM, Anna Maria Taccone, e nel capoluogo teatino si è speccata con l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, che pur rimanendo tra gli azzurri, si è spilato appoggiando al candidato civico Bruno Di Iorio, sul quale è confluita anche Italia Viva, ora prova a ricompattare la coalizione, cercando di ricucire anche lo strappo tra Febbo e Di Stefano. e fare il punto sullo scenario economico nazionale con un approfondimento sulle risorse comunitarie previste per contrastare la crisi economica innescata dalla pandemia del coronavirus, con particolare riferimento alle ricadute per Avezzano e per la Marsica. È il focus del dibattito che domani, domenica, nel capoluogo marsicano, vedrà protagonista il senatore della Lega Alberto Bagnai, noto stimato economista, componente della Commissione Permanente Finanze Tesoro, nonché responsabile economico nazionale dei salviniani. L'appuntamento alle ore 18 nella sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di Avezzano Tiziano Genovesi, quarant'anno imprenditore, segretario provinciale della Lega in provincia dell'Aquila, sarà così al fianco del senatore Bagnai. All'evento sono stati invitati a partecipare professionisti, commercianti e imprenditori del territorio. Il dibattito con il senatore Bagnai, come detto, esperto economista, servirà per comprendere quando e come le risorse messe a disposizione potranno essere utili per Avezzano e quali potranno essere i progetti locali su cui puntare. Le associazioni di categorie della città recentemente unitesi per formulare proposte unitarie alla politica locale avranno l'occasione di ascoltare cosa potrà aspettarsi il territorio dai piani nazionali e europei in fase di approntamento per vincere la crisi attuale, conclude il quarantenne imprenditore genovesi. E' Filiberto Figliolini, titolare di un salone di acconciatura nel centro di Avezzano è il nuovo presidente dell'area Avezzano e Marsica di Confesercenti Abruzzo. L'elezione è venuta per acclamazione nel corso dell'assemblea elettiva svoltasi presso la sala conferenze della comunità montana alla presenza di numerosi operatori economici sia di Avezzano che dei paesi limitrofi. Al fianco di Figliolini è stata letta quale vicepresidente Arianna Pulsoni giovane imprenditrice già responsabile regionale del settore estetica di Confesercenti Abruzzo. Tanti temi discussi durante l'assemblea in particolare legati alla situazione di difficoltà in cui versano l'impresa a causa dell'emergenza coronavirus e le proposte dell'associazione per la ripartenza dell'economia. Il nuovo gruppo dirigente spiega a Figliolini si prefigge una serie di obiettivi tutti volti alla valorizzazione ed alla tutela delle micro piccole imprese con l'impegno ad operare con la massima energia per essere vicino alle problematiche che investono l'intero comparto commerciale e produttivo del territorio. Presidente della Regione Marco Mersilio presente a Sulmone Poscano insieme al capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile al direttore dell'Agenzia Regionale al comandante Truppe Alpine Presidente Ana per la maxiesercitazione nazionale è un'esercitazione di carattere nazionale per testare la capacità di interagire durante le emergenze siamo orgogliesi di essere una regione che si mette a disposizione per migliorare la capacità di intervento e di resilienza del territorio ha dichiarato Mersilio. L'iniziativa del comando Truppe Alpine dell'esercito serve proprio ad aumentare la sinergia e la capacità operativa degli interventi in attività di protezione civile davanti a calamità naturali. A Sulmone è stato anche firmato un documento di collaborazione fra le truppe alpine dell'esercito e l'Associazione Nazionale Alpini teso a definire nel dettaglio quanto già finora messo in campo e funzionale per il coordinamento e la risoluzione delle crisi emergenziali. Abbiamo un modello di organizzazione tra i più avanzati e l'ambizione di diventare una regione pilota a livello nazionale per fra fronte in maniera tempestiva e organizzata all'emergenza e con una semplificazione burocratica e amministrativa ha dichiarato Marsilio. In particolare poi ad Avezzano presso il polo logistico della Croce Rossa è stato allestito un campo base con relativa infermeria da campo dove viene testato il coordinamento delle attività di soccorso quelle che per il ripristino della normalità a seguito di eventi calamitosi simulati in special modo tra gli abitanti di Sulmona e Scanno. Ed un fine di settimana dedicato al tema dell'educazione con una serie di eventi organizzati nei luoghi statali della cultura. E' in programma le giornate europee del patrimonio 2020 del 26 e 27 settembre. Nel corso delle due giornate musei parchi archeologici e luoghi della cultura ospiteranno diversi laboratori attività didattiche e nella giornata di oggi è prevista un'apertura serale con il biglietto d'ingresso al costo simbolico di un euro per una visita straordinaria nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di infezione da Covid-19. In Abruzzo si potranno visitare ad esempio l'Aia dei Musei il polo espositivo museale situato nella città di Avezzano ospita il museo del prosciugamento del Fucino e il museo lapidario marsicano. A Celano il castello Piccolomini che domina la sottostante piana del Fucino mentre a Cevita d'Antino il museo Antinum all'Aquila è invece il Monda il museo nazionale d'Abruzzo storicamente ospitato nelle 41 sale del Forto Spagnolo sin all'apertura nel 1951 in seguito ai danni subiti dalla struttura. A Sulmone invece il museo civico è il museo maggiore artistico archeologico della Valle Peligna le sale sono ospitate nei dieci locali del complesso della Santissima Annunziata. Nelle prime quattro sale vi sono reperti archeologici di grande importanza e nell'ultima sala si possono ammirare i resti di una ricca domus romana. Per saperne di più cliccate su beniculturali.it giovedì 1 ottobre alle ore 11 presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si terrà la conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione della giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche FIABA Day che si svolgerà in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante la conferenza verrà presentato ufficialmente il programma del FIABA Day il cui evento clou si terrà domenica 4 ottobre a partire dalle ore 10 in piazza Colonna Roma. Nel corso della conferenza stampa sarà anche presentata la campagna di sensibilizzazione che quest'anno ha come titolo Per me il lockdown non è finito per sottolineare come per molte persone con disabilità e ridotta mobilità con la fine del lockdown non ci sia stato alcun ritorno alla normalità poiché la loro normalità è quella di rimanere confinate in casa e tutto ciò a causa di barriere architettoniche domestiche e condominali che spesso potrebbero essere facilmente abbattute. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle questa mattina è tornato con fermezza a chiedere il sostegno della regione Abruzzo per sanare le situazioni ormai diventate insostenibili. Pettinari si riferisce ad oltre 10 disabili dislocati in tre palazzine di Via Valle San Mauro nelle case Gescal di Pescara Colli che sono di fatto bloccati in casa d'anni perché le strutture Ater sono prive di ascensore a questi casi limite si uniscono comunque quelli di tutte le persone anziane che sono impossibilitate a uscire dalle proprie abitazioni un vero e proprio grido di aiuto raccolto dal vicepresidente del Consiglio regionale sono passati nove mesi da quando ho chiesto l'intervento di Regione Abruzzo dichiarato mi avevano assicurato un stanziamento di fondi ma oggi sembra che fondi non ci sono di chiara pettinari mi sono preso in giro ma la cosa più grave è che si stanno prendendo in giro cittadini che hanno reale bisogno di aiuto non è la prima volta che chiediamo che in queste palazzine vengano installate ascensori come nelle altre dello stesso complesso si svolgerà lunedì 28 settembre alle ore 11 nella sala Corradino da Scania della sede del Consiglio regionale di Pescara in Piazza Unione la conferenza stampa dei gruppi consigliari del centro-sinistra sul progetto di legge sull'urbanistica del centro-destra che approderà in Consiglio martedì durante la conferenza i consiglieri del PD con il presidente Legnini gruppo messo Bruzzo in Comune illustreranno la posizione che prenderanno in aula le tante criticità rilevate nel testo che la maggioranza punta ad approvare nonostante prima di dicembre la nuova disciplina organica sull'urbanistica sarà pronta e sempre invece martedì 29 settembre alle ore 9.30 presso l'aula consigliare Sandro Spagnoli del Palazzo dell'emiciclo di L'Aquila in programma la seduta straordinaria della Commissione Sanità integrata dai capigruppo consigliari e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza per procedere alle audizioni sul piano di potenziamento e riorganizzazione e assistenza territoriale Covid Regione Abruzzo dell'assessore regionale alla Sanità e del direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo Claudio Damario la prima Commissione consigliare bilancio affari generali e istituzionali è convocata in seduta straordinaria appunto come detto per giovedì con il seguente ordine del giorno area di confine proposte progetti per lo sviluppo all'integrazione territoriale in programma le audizioni dei sindaci di Balsorano Cersoli Castel di Sangro Castiglione Messer Merino L'Aquila Basto Balla Castellana oltre ai rappresentanti regionali di Anci CNA Conf Commercio Conf Esercenti Conf Artigionato Modifiche ed integrazioni alla legge regionale recante norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali E sempre martedì il Parco Nazionale della Magliella sottoscriverà una convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Bruzzo che nasce dalle comuni finalità in tema di studio protezione salvaguardia sviluppo e fruizione delle risorse naturali e dalla condivisa sensibilità e necessità di educare la montagna anche attraverso azioni di informazione e formazione degli escursionisti e dei visitatori del Parco una convenzione che garantirà al territorio del Parco l'esperienza dei soccorritori anche nella prevenzione e la consapevolezza che la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro attenta e informata frequentazione vista quale fattore di sviluppo rendono necessario l'apporto di tutte quelle componenti delle società che vivono l'area protetta nei suoi vari aspetti e vi compresi lo studio e la conoscenza del territorio e l'educazione permanente dei cittadini presupposti essenziali per un'adeguata e mirata gestione di questa particolare risorsa naturale non anche di tutti gli aspetti legati alle attività di soccorso in montagna in ambiente ostile e impervio sull'iniziativa dell'assessore regionale Mauro Febbo si è tenuta a pescare a una riunione per verificare lo stato di attuazione del protocollo di intesa sottoscritto nel febbraio 2019 tra Tails Spa e Forender 24 in particolare per quanto concerne il processo di riassorbimento dei laboratori ex Intex che allo stato dichiara Febbo risulta ancora lontano dall'obiettivo fissato di 30 unità lavorative per la sola Tails e 25 per le altre del raggruppamento e alla convocazione ha risposto solo la Tails all'Enea Space Italia e a seguire la FIOM regionale con i propri delegati l'incontro si è concluso con l'impegno dichiara l'assessore Febbo di riconvocarsi a breve entro la prima decada di ottobre necessariamente con tutti i soggetti attori del settore e con Tails parte dirigente dell'iniziativa unitamente al mio assessorato per individuare una strategia di intervento in cui la regione Abruzzo in continuità con gli impegni precedentemente assunti avendo investito ingenti risorse con gli impegni e nell'ambito delle space economy anche rimodulando strumenti finanziari già in essere si farà garante della ricaduta occupazionale ma anche della valorizzazione delle risorse umane questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti noi come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennadoitv.it o sulla nostra pagina facebook Antenna 2 Vezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a presto a presto